Ciao! Allora, sono contentissima di fare questo video. Allora, velocemente, volevo dirvi, siccome me l'avete chiesto, siccome il vecchio link non funziona più, Design del Colore, in collaborazione con Deborah, ha un nuovo link. Lo potete trovare, come al solito, qui sotto, basta che andate nel box info e troverete il nuovo link. Ci tenevo a dirlo perché è cambiato ormai da qualche settimana e ogni volta quando faccio un video mi dimentico completamente di ricordarmelo, di dirvelo. Allora, perché ho voluto fare questo video? Perché volevo dirvi delle cosine che sono successe in questi giorni, delle notizie che abbiamo ricevuto e volevo farvele sapere. Allora, a novembre, a novembre ci trasferiremo, lasceremo San Diego, resteremo in California, andremo a nord, andremo nella Baia di Monterey, andremo a Monterey, che è più o meno, credo che sia un'ora, da San Francisco a Silicon Valley, queste zone qui, una zona molto bella quella della Baia di Monterey. Andremo lì per sei mesi, vi spiego perché andremo lì, dopo, adesso vi dirò cosa, dove andremo dopo, e poi, insomma, tornerò a Monterey e vi spiegherò il perché. Ci trasferiremo in Italia per un anno. Consiglio a chi ha il volume al massimo di diminuirlo velocemente. Sono contenta per diverse cose, per diversi motivi, innanzitutto perché saremo più vicine alla famiglia, alla mia famiglia, la possibilità per Joseph e Jacob di comunicare, di stare a contatto con bambini italiani, e comunque siamo contentissimi. Andremo a Roma, sicuramente in questi mesi tramite Facebook, Twitter, vi chiederò tantissime cose, perché ho davvero tante informazioni da chiedervi e consigli soprattutto, anche come zone dove vivere. che Brian lavorerà in centro, quindi ci piacerebbe vivere in centro, però immagino che ci siano i pro e i contro, quindi ve lo chiederò. Comunque volevo darvi questa notizia. Siamo anche molto contenti comunque di andare per sei mesi, scusatemi. Adesso torno indietro, perché andremo a Monterey, andremo a Monterey perché Brian frequenterà, dovrà frequentare, non è una sua scelta, è questo l'iter prima di andare in Italia, di essere trasferito in Italia, frequenterà un corso intensivo di italiano per sei mesi, che comunque è una cosa fantastica, perché pur essendo sposato con me, io con Brian, dall'inizio ho sempre parlato in inglese, perché ne ho parlato anche in passato. La priorità era per me parlare l'inglese, capire l'inglese, perché avrei vissuto principalmente qui ed era una cosa normale per interagire, per lavorare, per tutto il resto. Quindi l'italiano di Brian è un po' così, all'Eater Parisi, no anzi l'Eater Parisi lo parla bene, nel senso che capisce quasi tutto, non lo parla, lo parlicchia, con la mia famiglia si capiscono sempre. Comunque sicuramente frequentare un corso intensivo di italiano per sei mesi è fantastico, anche perché farà solamente quello, studierà italiano per sei mesi, a Monterey c'è un, credo che sia l'università, ci sono dei corsi intensivi per traduttori, per interpreti, ma non solo di italiano, di diverse lingue. Ancora c'è tanto tempo, c'è più o meno un anno, però vi assicuro, vi assicuro che tra il periodo in cui saremo a Monterey è il periodo di preparazione, ci sono tantissime cose, non potete neanche immaginare, perché ovviamente praticamente impacchetteremo una casa, dobbiamo decidere cosa portare e cosa non portare e la spediremo in Italia, quindi con macchina, tutto quanto andrà in Italia. Tutti questi movimenti, trasferimento, cose, tutto vale l'essere in Italia per un anno. Non vedevo l'ora di dirvelo, però volevo farlo in un video, volevo farmi vedere mentre ve lo dicevo. Ho fatto un nuovo tatuaggio, questo è il terzo, quindi volevo farvelo vedere. Ancora qualche corsicina, quindi non è completamente al massimo, però volevo iniziare a farvelo vedere. Ho fatto il mio primo tatuaggio a 30 anni, quindi non ero proprio una bimba, perché volevo essere sicura di quello che stavo facendo e quindi sì, assolutamente, non mi sono pentita gli altri due, non so, è poi strano pentirsene, non lo so, non mi sono mai pentita di niente. Poi sono, non so voi, non so se chi ha tatuaggi, chi mi sta guardando e ha tatuaggi, la pensa come me, e sono sempre stata una che sceglie il tatuaggio o decide cosa tatuarsi così. Conosco persone che magari ci sanno mesi per capire, e credo che sia importante, assolutamente, perché è un segno indelebile, però io invece sono una che decide subito cosa vuole, come lo vuole, quindi sono molto veloce, ma per tutto. Ed è tutto, vi darò aggiornati, vi darò aggiornati come al solito sui vari social network, sulle novità, su quello che succede, vi farò sapere. Ed è tutto, un bacio grandissimo, ciao!